Come sta Vittorio Cecchi-Gori? Rita Rusick, Vittorio vuole tornare con Mia Miani Come sta Vittorio Cecchi-Gori? Come sta Vittorio Cecchi-Gori? Dopo la grave ed improvvisa ischemia Vittorio Cecchi-Gori è ancora ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma. Le sue condizioni sono migliorate ma di certo è ancora provato. Al suo fianco in questo terribile momento che è l'ex moglie Rita Rusick, nonostante i due abbiano affrontato moltissime lotte legali in passato. . Dopo il malore la donna si è precipitata in ospedale da Miani, il rancore tra e due è passato in secondo piano a causa delle gravi condizioni di salute di Vittorio. . La Rusick ha fatto sapere che l'ex marito le avrebbe chiesto di tornare a casa con lei a Miani, a farlo sapere è stato il settimanale Novella 2000. L'ex attrice ha aggiunto che il produttore si è subito commosso quando si sono incontrati, i due non si vedevano da anni. . Vittorio Cecchi Gori desidera riavvicinarsi alla famiglia. . Vittorio Cecchi Gori sta meglio, oltre all'ex moglie che è anche il figlio Mario al suo fianco. . La figlia Vittorio al momento si trova invece negli Stati Uniti per questioni burocratiche. . Per anni il produttore è rimasto lontano dalla sua famiglia, ad oggi però desidera tornare da loro a Miami e recuperare il loro rapporto. . Cechchi Gori non vedeva Rita Rusick da sette anni, dall'ultimo incontro con il figlio Mario invece erano passati tre anni. .